Siamo tornati ospiti dell'azienda agricola Caboia Fontanelice e qui con me c'è Ottavio Azzori. Siamo qui per raccontarvi quella che è la loro attività agricola preponderante, quella dell'allevamento degli ovini. In questo momento siamo nell'ovile, appunto, siamo in stalla e qui abbiamo sia le pecore che le capre. Allora Ottavio, intanto di che razza sono, quante sono? Allora, le pecore sono di razza Lacon prevalentemente, c'è qualche frisone in mezzo. Sono delle pecore abbastanza docili di carattere, molto produttive. Sono pecore da latte ovviamente perché voi producete formaggi. Da latte, sì, sì. Fanno circa 3 litri di latte giornaliero con un proteico del 22%, quindi vuol dire che con 100 litri di latte fai 22 kg di formaggio, quindi ha una buona resa. Abbiamo fatto questa scelta qui. Certo. Ecco, ad occuparsi della mungitura è Marcello, il suo figlio. Sì, sì, sì. Quando ogni quanto vanno munte? Due volte al giorno o una volta sola le pecore? Due volte al giorno. All'inizio, da quando si svezzano gli agnelli, due volte al giorno. Poi dopo, quando si preparano per la nuova produzione, si devono asciugare, quindi un giorno sì, un giorno no, finché non vanno asciugate del tutto. Certo. Ecco, poi abbiamo anche delle capre. Queste sono davvero la tua passione? Sì, sì, sì. Da bambino le ho sempre avute. Quindi ho un po' di camouchette che abbiamo preso, che non è da tanto, mentre le altre nemeticce erano quelle che avevo qua io prima. Certo, perché tu le hai sempre avute, anche quando ancora non facevi tanti anni fa questo tipo di lavoro, però quelle delle capre, gli hai sempre avuto bene a questo tipo di animali? Sì, sì, è il mio antistress. Io quando sono qua con gli animali sto veramente bene. Ma tra l'altro sono animali estremamente socievoli. C'è proprio, dicevo, la sensazione sembra quella di essere in un presepe, perché non è così comune che le pecore ti vengano vicine, si facciano accarezzare gli agnelli, si fanno accarezzare. Anche i maschi, lui il padrone di casa, che è fierissimo, è lì che controlla, sta già guardando, dice cosa sta succedendo qui a casa mia. Però si vede che stanno molto bene, per cui c'è grande rispetto per questi animali, anche da parte vostra. Beh sì, passione. L'unica cosa è la passione, trattarli bene, e poi loro ti ricambiano sempre con del bene. E' un volersi bene a vicenda, diciamo. A vicenda, certo. E sono comunque anche animali, adesso loro stanno sempre in stalla, voi non avete il pascolo, però sono animali abbastanza rustici, con allevamento impegnativo. E' errato questo. Noi abbiamo un po' di pascolo, noi li tiriamo fuori adesso in primavera. Abbiamo la fortuna che c'è un vicino che ci ha lasciato un po' di pascolo, un po' lì, un po' qua dal prato, però stanno fuori. Loro adesso stanno fuori e stanno dentro quei tre, quattro mesi d'inverno. E quindi poi dopo escono, quindi deve essere un bellissimo spettacolo vederle fuori. Al primo giorno quando escono giocano, saltano, è un divertimento vederle proprio. Allora Ottavio, ma queste quanto mangiano? Adesso qua hanno un bel fieno a disposizione, però sono ingorde proprio. Sì, 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 sì. No, mangiano parecchio. Poi la pecora in particolare è un animale che mangerebbe sempre. Finché ne vede e mangia. Finché ne vede e mangia, sì, sì. Mentre la capra è un po' più delicata, diciamo. Quando è arrivata quel tanto si ferma e niente. Mentre invece le pecore vanno di lungo. Più ne hanno più mangiano, insomma. E in effetti poi crescono anche velocemente, perché adesso noi qua sono divisi. Adesso qui in fondo c'è questa pecora qua che è stata ormai allo svezzamento, giusto? Qua invece abbiamo gli agnelli per quanto, perché poi loro vanno e vengono, stanno in giro, fanno un po' quello che gli pare. E quindi sono divise per età, per fasi della vita, diciamo così. Sì, sì, infatti abbiamo fatto dei box dove ci sono quelle gravide. Questa parte qua partoriscono, lo svezzamento. Qua quando hanno 6-7 mesi si mettono da quest'altro lato. Ce ne sono di quelle che hanno già un anno, ce ne sono qualcuna già gravida come questa qua. Si vede che è bella grossettina. e poi ritorna il ciclo. E certo, insomma. Vanno al pascolo, ritornano da quella porta lì, partoriscono e via andare. Via andare. Insomma, questa è la loro vita e direi che non è obiettivamente male. Una curiosità, ce ne sono alcune che hanno, e proprio si vede il vello, quindi la lana più lunga, più folta, altre invece più corte, dipende dalla razza. Sì, qui abbiamo sempre delle laccon, delle incroce con delle frisone e delle sarde. Quelle sarde si vedono perché hanno un mantello molto più lungo, mentre invece le altre rimane più raccolto, più riccio. Ecco, tra l'altro quella della lana, cioè le pecore vanno tosate, perché a loro comunque la lana dà fastidio e quindi bisogna tosarle una volta all'anno, però quello della lana è un problema per chi alleva pecore, perché una volta si veniva utilizzata, adesso è da smaltire, è considerato un rifiuto speciale, è assurdo dirlo. Purtroppo è così, non ha più quel pregio che aveva una volta la lana. Adesso si lavora su quello che è l'industriale, la lana da per sé non ha più nessun valore, viene classificato come un rifiuto speciale. Ma non ci sono degli utilizzi alternativi? Si parla tanto per esempio di bioenergie, non si può pensare a qualche cosa, a qualche prodotto? C'è chi ci sta lavorando, che tu sappia? Ma che io sappia no. So che ci si potrebbe fare delle coibettazioni da usare in edilizia, oppure c'è chi l'ha usata, ha provato di usarla in agricoltura, però poi dopo sono cose che si fermano lì, non hanno... E quindi insomma perché sarebbe interessante perché obiettivamente la lana c'è, gli animali vanno tosati ed è in effetti un impegno, un costo in più per un'azienda agricola che deve affrontare anche questo e invece potrebbe essere una risorsa. Quella là è sempre là sopra, cosa fa da vedetta? Sì, quella è la capretta berichina, la chiama così la mia nipotina, e salta dappertutto. Adesso è anche abbastanza calmina, di solito la troviamo qua dalle pecore, quindi oggi... Quindi oggi ha deciso che sta lì per vedere che cosa succede, insomma prima avevamo il maschio che stava in alto, anche lui per capire, vogliono avere il controllo della situazione, eh? Sì, 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 sì. E adesso invece andiamo in cucina per preparare insieme una ricetta tradizionale, il riso con salsiccia e verza. Affettiamo lo scalogno che è una delle primissime fasi per la ricetta che vi andiamo a raccontare oggi. Ci abbiamo preso gusto e quindi siamo tornati qui da Carla. Vedete, si tratta di un risotto, elemento, ingrediente fondamentale perché bisogna fare la base. Allora, che cosa prepariamo esattamente? Un risotto della tradizione, anche un po' un piatto povero fondamentalmente. Sì, decisamente. Un risotto con la verde e la salsiccia. Bene, allora, dopo vedremo tutte le immagini mentre si fa. Raccontaci un pochino quali sono gli ingredienti. L'ingrediente base, lo scalogno e cipolla come per tutti i risotti. Poi qui abbiamo il cavolo cappuccio tagliato e la salsiccia. Che è già stata appunto anche in questo caso sbriciolata. Poi ovviamente un po' di burro, un po' di olio, il riso e il parmigiano. Ma un pizzico di pepe, il parmigiano, un tocco di vino bianco, come tutti, insomma, il procedimento di tutti i risotti. Perfetto. Allora, come si comincia? Si mette lo scalogno ad appassire? Sì, mettiamo lo scalogno ad appassire con un po' di burro e un po' d'olio. Una volta fatto questo, mettiamo la salsiccia. Ok. Perché ci vuole un po' più di tempo a cuocersi la salsiccia. Poi dopo mettiamo la verza. Io il vino lo metto, come prende colore sia la verza, io butto il riso. Va bene. Poi metto il vino, lo faccio evaporare. Quindi, dimenticavo un ingrediente fondamentale, il brodo. Io in questo caso l'ho fatto solo col pollo. Si può fare anche col dado, però il brodo di carne per me è molto più buono, è più saporito. In questo caso, tra l'altro, diciamo che se uno, tanto non è un piatto vegano, perché c'è la verza, ma c'è pure la salsiccia, uno poi, se vuole farlo solo con la verza e il brodo, diciamo, matto per così dire, se no, per avere un risotto onnivoro, verza, salsiccia e brodo di carne col pollo. Ci sono tante varianti, io l'ho fatto anche con la pancetta affumicata, i dadini, che è comodissimo, l'ho fatto con lo speck ed è buono anche solo con la verza. Ecco, diciamo che questa è una ricetta abbastanza tradizionale e anche povera, perché la salsiccia è un elemento prezioso, però, diciamo, le verdure un tempo si trovavano dappertutto. È comodo perché, insomma, adesso, come adesso che vanno tanti piatti unici, perché io quando lo faccio, lo faccio abbondante da un piatto unico, insomma, noi mesciamo solo questo. Perfetto. Allora, parliamo anche da sommelier e gli abbinamenti. Da quello che mi risulta sarebbe da abbinare a un vino rosso leggero. Ancora forse più leggero di questo. No, noi avevamo questo dalla calcinetta e quindi... Da regola con un merlot, ecco, o un rosso dell'Alto Adige leggero. Però ognuno ci mette il suo. Questa è la regola, da libro, diciamo. Io personalmente ci abbinerei un bianco, ma è molto buono questo Silvaner di Pacquiao, un bianco profumato e abbastanza sostenuto, ecco. Io onestamente ci vedrei anch'io più quello, anche perché... Però questo è il mio gusto personale. È già un secondo gusto personale. Sì, però che essendoci la salsiccia sopporta bene anche un rosso. Però, insomma, ci sono dei profumi molto forti, secondo me. Questi profumi vanno un attimo probabilmente smorzati anche dall'utilizzo di un vino di questo genere. Allora, con questo splendido risotto, splendidamente impiattato e splendidamente abbinato, noi concludiamo il nostro collegamento e siamo arrivati anche alla fine della nostra puntata. E naturalmente ci rivediamo tra sette giorni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.